Abbiamo la conferma che tra il materiale scoperto trovato durante le operazioni di scavo per la realizzazione della sala prove all'interno dello stabilimento pistoiese di Ansaldo Breda ci sono tracce di amianto. Lo ha detto Iuri Citera, segretario provinciale di FIM CISL, al termine dell'Assemblea dei Lavoratori, riunita ieri per discutere sul da farsi. C'è preoccupazione tra i lavoratori, ha aggiunto. Per questo è stato deciso di tenere un'altra assemblea giovedì prossimo tra i rappresentanti territoriali dei sindacati, la commissione amianto, la RSU aziendale e la RLS, dopodiché decideremo. È probabile che già giovedì venga richiesto da parte dei rappresentanti dei lavoratori un incontro con il sindaco di Pistoia, Samuele Bertinelli. Il materiale sospetto era stato trovato una decina di giorni fa durante i lavori di scavo in un'area interna all'azienda. I lavori erano stati sospesi in attesa di approfondimenti.